E bentornati! Ciao a tutti ragazzi! Oggi siamo qua per far vedere Junkrat con queste belle risate e oggi no in realtà siamo qui per dimostrare che queste non portano in situazioni perché se superiamo in situazioni medie io mi arrabbio perché vuol dire che solo queste portano in situazioni. Scusa queste portano in situazioni. Se andiamo oltre tre vuol dire che c'è qualcosa che non si inquadra. Va bene detto questo andiamo a vedere il nuovo personaggio che è attualmente nel PTR che è uscito questa settimana Junkrat, personaggio di Overwatch in portato Heroes of the Storm. Allora le sue tre skill di base sono praticamente l'attacco base che è questo trasformato in un'abilità, la E e la Shift di Junkrat che sarebbero le skill di Overwatch. Quindi andiamo a vedere la prima skill. La prima skill è il lancia granate quindi voi lanciate una pallina che rimbalza finché non colpisce o non arriva a distanza massima. E poi esplode. Se questa pallina colpisce un muro dopo il primo rimbalzo può rimbalzare e torna indietro. Se invece lo prende diretto esplode. Almeno un rimbalzo. Deve rimbalzare almeno una volta a terra per andare in una direzione di esplodere. Ha un gran range perché i rimbalzi sono tanti. Ha quattro cariche, lo vedi? Quindi ha un gran range. Però fa danni ridotti al 50% sulle strutture. Ovviamente l'hanno fatto se no già nella distanza siderale poteva spaccare. Tipo da qui posso spaccare le strutture. È un po' sbagliato. Invece l'hanno... Vabbè comunque non è che tanto... Ha un grande range però gli fa meno male. Poi la W. La W è la mina. Funziona esattamente come su Overwatch. Voi la piazzate e poi la fate esplodere con la passiva che in questo caso è la D. Se ci siete voi sopra o un nemico sopra oltre a fare il danno al nemico lo spinge pure. Guarda, se lo faccio io ci fa saltare con Junkrat. Ok? Se lo fate vicino a un muro magari non lo facciamo nella base avversaria se no si muore. Se lo fate bene vi spinge dall'altro lato del muro. L'ho fatto malissimo. Meno male abbiamo il nostro... Ok, l'altra abilità è la Tenaglia. Ovviamente la trappola di Junkrat. La trappola di Junkrat. Voi la potete piazzare. Dopo un secondo si apre e poi prende il personaggio più vicino. e lo immobilizza per due secondi. Quanto dura una volta piazzata a terra? Dura parecchio se non mi ricordo male. Ha una vita, viene distrutta. Aspetta fammi vedere. Dura, dura. Finché è piazzata voi qui avete il simbolo. Meglio anche dell'originale. Esatto, meglio dell'originale. La sua passiva sono le granate che quando muore Junkrat lascia cinque granate a terra che ognuna... che dopo 0,75 secondi esplodono e ognuna di esse fa cinquecento danni che sono parecchie. Adesso moriamo, per favore muoviamoci a morire. Queste sono le granate che esplodono e fanno danni. Ma la mina ne puoi piazzare una per volta? Dimmi, allora queste sono quelle base, si ne puoi piazzare una per volta. Lo so che Junkrat adesso avremo scenario 2 ma di base adesso c'è uno. Allora, ci sono due possibili build. La signorina vuol dire qualcosa che non sta capendo niente di questo gioco perché non ci ha mai giocato. Esatto, però seguo. Appena abbiamo iniziato a giocare un personaggio più carino non c'è. No, ti prendi questo che è quello che è uscito adesso. Vabbè, ma ce ne sarà uno più carino. Sì, certo che ci sono più carini. Una femmina. No, ma per te nulla. Niente. Niente donne, posso. Niente donne, posso. Niente donne, preferisci altri giochi. Gioco mattini, niente donne. Allora, perché vi ho spiegato il rimbalzo sul muro prima? Perché c'è questo talento. Dopo che la granata, quindi quella Q, colpisce un muro o un ostacolo qualsiasi, fa il 20% di danni aggiuntivi. Quindi se noi la prendessimo, fare una cosa del genere, questa granata farebbe il 20% di danni in più. Non è molto facile a gestire perché ovviamente non sempre puoi farle queste cose se non c'è un ostacolo. E soprattutto se colpisce un muro nemico è considerato ostacolo. Quindi dovete fare per forza solo con l'oggetto di ambientazione. Io vorrei farvi vedere una build in particolare che a me è piaciuta. In realtà mentre facciamo questo video ne spiegherò due di build. Però iniziamo con una. Il primo talento cambia, in realtà cambia in base al vostro stile di gioco. Però è tutto quanto un potenziamento della Q. A me piace molto di più questo qua perché aumenta la distanza della copertura della Q. Quindi se voi partite da qua, la Q va molto lontano prima di esplodere. Ovviamente non è più veloce il proiettile. Quindi in linea teorica non vi aumenta il DPS, aumenta solo la copertura. Ok, ci sono due possibili build importanti. Una è quella sulla Q, quindi il primo talento essenziale è quello del range secondo me. E l'altra è quella sulla Tenaglia. Vi faccio vedere quella sulla Tenaglia perché è leggermente più difficile da giocare. Quella sulla Q alla fine spammate soltanto la Q. Però vi spiegherò anche gli altri talenti. Allora, entrambe sono missioni. Una aumenta il danno della Q, quindi aumenta il danno generico dell'abilità. Stacca massimo, quanto fa? 20 volte, giusto? 75. Per arrivare a 150 sono 20. Sì. Con due fun e cinque, sì. Quindi dovete colpire 20 eroi per avere il bonus massimo. È una quest facilissima da fare questa. In alternativa c'è questa qua della Tenaglia che è un po' più difficile perché colpire 8 eroi con la Tenaglia è un po' più difficile. Ma la sua ricompensa è fortissima perché riduce il tempo di recuperare la Tenaglia in 3 secondi che è di base a 12 che a 9 quindi non è tantissimo. Però la cosa figa è che voi potete mettere 3 Tenaglia attive contemporaneamente. Ora, andiamo a vedere. Non riusciremo a farlo in questo video, 3 Tenaglia attive contemporaneamente perché devi beccare 8 eroi e Artas è un po' scemo. Vai via giù, prenditi. Avete visto? Questa stacca l'abilità. Ah, qui c'è il simbolo della Tenaglia per farvi vedere se è piazzato o no. Per farvelo ricordare. Artas, fai tiaffa di tuoi. Quindi, finché la Tenaglia attiva... Junkrat non è un attacco base? Sì, c'è l'attacco base. Su l'attacco base però non rimbalza come... Ok, è una pistoletta. È un lancio granate normale. Ok. Poi, andiamo avanti, altro talento sulla Tenaglia. Ovviamente, se non avete altra scelta e fate la B sulla Q, prendetela Q. Quello non è neanche a parlarne. Qui dovete fare una scelta molto importante perché o la Tenaglia non immobilizza più per 2 secondi ma rallenta il 90% per 3 secondi. Quindi aumenta in realtà la debilitazione e il movimento dell'avversario oppure aumenta il range del 50% e i danni. A me piace tantissimo questa perché la Tenaglia diventa gigante e la sua portata è molto più grande. È bellissima. È una Tenaglia gigante. Le Ultimate. Le Ultimate sono importanti. Le faremo vedere tutte e due, come ho detto a prezzo Junkrat. Vi faccio vedere... La Rodobomba è identica a quella di Overwatch. Addirittura ha la skill per saltare la Rodobomba. Visto che su Overwatch può arrampicarsi su muri. Le hanno messo la skill per saltare gli ostacoli. Dopo ve la faccio vedere. L'altra cosa è la Corsa Missilistica. È una skill molto alternativa perché voi la lanciate. Dopo mi sembra 3 secondi e mezzo Junkrat arriva a destinazione. Ora vi faccio vedere. E esplode infliggendo danni e lui muore. Junkrat muore però non dai la kill all'avversario. Ok? Quindi facciamola vedere. Quindi la puoi usare quando sei ormai spacciato. Sì. Voi potete spostarla durante il caricamento. Junkrat arriva e muore. Però lascia le bombe. Alla Waka Barbie. Allora. Quindi lascia le bombe. Quando respona finché non smontate avete la monta iperfiga che va al 150% di velocità. Cioè è un suicidio però. No è veramente bella come ultimate. Poi va velocissimo. L'unico pecca di questa ultimate è il cooldown molto lungo all'inizio. Perché l'altra se non sbaglio è un cooldown più corto. Infatti ha 20 secondi meno di cooldown. Andiamo al talento del 13. Facendo la build sempre della Tenaya. E quindi a me questa piace un sacco perché così le Tenagli si spostano verso gli eroi. Una volta che sono attive. Appena lui entra nel range. Maledetto Arthas. Madonna come fai schifo. Via su. E lo vedi? La Tenaglia lo insegue. Bellissima. Pensate. Voi potete mettere fino a tre Tenaglie. Esatto. Una volta presi otto eroi. Noi siamo a livello 21. Comunque secondo me circa a livello 12-13 la quest di aver preso otto eroi la fate perché la prendete al 4 questa. E potete mettere tre Tenaglie contemporaneamente. Molto interessante questa. Non è veloce come quest però non è realmente così difficile. Guarda guarda. Dai vieni Arthas. Una volta che la metti nel. Dove ripressionare l'istruttore. Maledetto Arthas. Mi scegli. Una volta che la metti dentro i boschetti. Eccolo eccolo. E' invisibile Tenaglia. E' facile prenderci gli eroi. Quindi basta piazzarlo ogni volta. E' facile prenderci gli eroi. Poi. Questo talento è per forza del. Per forza sulla Q. Io vi consiglio. Il primo è il più facile da usare. Praticamente riducete le camere massime della Q. Da 4 a 3. Però sparate tutte le cariche contemporaneamente. E' la più facile da usare in assoluto. La più difficile da usare è l'ultima. Anche se fate la B sulla Q. E' molto forte. Ve la faccio vedere. Vi da una skill extra. Che ha 30 secondi cooldown. E quando la tirate. La vostra Q fa due palle aggiuntive. Vedi. Ha una pioggia di palle. Fino a consumare tutte le cariche. Quindi. E' così. Va bene. Poi. Guardiamo un talento del 20. Questa è molto forte. Perché riduce la. Il cooldown. Del missile. Di 70 secondi. Quindi va a 30 secondi cooldown. Potevi sparare il 70% in più. Delle volte. Un'altra cosa. Se fate la build della Q. Dovete prendere questa. Secondo me. Perché stende il 50% del raggio. Delle esplosioni. Delle granate. Quindi fate molto più danni. E anche degli attacchi base. Ora. Facciamo vedere il cooldown ridotto. Che è una cosa ridicola. Dove sei Arthas? No. Arthas è andato via. E' scappato. Eccolo. Ok. Ok. Quasi morto. E' molto figa. Comunque Danny ne fa parecchi. Ne fa parecchi. Perché. Pensa in un gruppo dove c'è il CC. Esatto. Guarda come va un missile. Guarda che faccio. Ok. Se fai il mostra comandi. Puoi completare le missioni. Così fai vedere. Le tre. Completa missioni. Eccolo qua. Vedete ho tre segne. Tre. Tre cariche. Tre cariche attive. Una. Guarda. Comunque cooldown ce l'ha lo stesso. Due. Lo facciamo prima. Due. E tre. Se Arthas passa di qua. Si becca. Per cristina struttura. Almeno Arthas viene. Si becca tre trappole. Ovviamente. Non sono. Cioè. Ognuna. Resetta il cooldown. Non lo sapevo che prendeva anche Mion. Non lo so. Una cosa nuova. Visto. E trappole inseguono Arthas. O il. Nemico. O il primo nemico che ancora ha. O come corre dietro. È molto molto carina questa. E prima o poi viene beccato. Cioè. Simpatica però. Riduci. Riduci parecchi danni. Cioè. È molto di controllo. Poi questa. È ovviamente. Si. È molto di controllo. E riduci danni insomma. Perché. Comunque fa. Fa un po' di danno. Si no. Immobilizza. Tutte le skill che hai. È quella che fa meno danno. Si. Ovviamente. Quanto fa l'esplosione la mina? Cosa? La mina. Di base. Quindi nel senso. Lo immobilizzi. E poi lo fa esplodere. Non sto dicendo che è sbagliata. Ho detto che questa build è per chi. Si si si. Preferisce giocarlo come personaggio di controllo. Esatto. Proprio da specialista. Ok. Adesso. Resettiamo i talenti e faccio vedere l'altra. L'altra ultimate. Ripristina talenti. Allora. L'altra ultimate. Facciamo velocemente. Un'altra build. Facciamo quella sulla Q. Si. Vabbè. Non è molto difficile. Viene tutta la Q. Rodobomba. Adesso la faccio vedere. Anzi. La faccio vedere subito. Voi la lanciate. Junkrat diventa immobile. Proprio come su Overwatch. E usate la robomba fino a scadere il tempo. Questa è l'esplosione. L'esplosione fa più danno al centro. E vi aggiunge una skill che è con la Q. Con la Q. Se lo fate nella direzione giusta. Nel momento giusto. Salta l'ostacolo. E con la R la fate esplodere voi. Ok. Può essere distrutta. Si. Ha una vita di mille. A livello. Si. Una vita di mille. Mille. Quattro mille. No. Quelli sono i danni. No. Sono i danni. Controlla la bomba con mille cento. Contrata di salute. Però a livello. Siamo al venti. Si. Ora andiamo avanti con. Con la build. Io qui comunque. Tu prenderai Tenaglia. Per immobilizzare l'eroe nemico. Si. 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 E' comunque una rottura di scatole. Perché lui deve. Esatto. Perché lui. Si deve spostare. Si sta ingaggiando in qualche modo. Quindi vi faccio vedere l'altra Q. Che è molto simpatica. E. Il potenziamento della radio bomba. Estende il 50% la portata. Della respinta della radio bomba. E ne riduce il tempo di recupero di 20. Questa è molto carina. Ma se fate la build della Q. Questa è essenziale. Che direi. Preferisco questa qua. E la rodomomba. L'avete vista. Vi faccio vedere. La Q che la spara tutta insieme. Quindi. Se voi riuscite a immobilizzare il nemico. Dai su. Brava. Bombetta. Vi sparate una tripla Q. Vedete? Ah beh. Eh. Però scusa. Completa missioni. Ok. Quindi abbiamo i danni massimali. Arta storna per favore. E fai un tank metà vita. Con una sola Q. Ah vabbè. E il suo recupero è di 6 secondi. E' una bella combo questa. Secondo me. A mio parere. In realtà puoi tirare tutto. Che è. Tira un poco sulla struttura per vedere. La struttura la Q fa danni di mezzate. Si lo so. Ma voglio dire come reagisce. Fa la stessa cosa. Però faccio danni di mezzate. Ok. No no. Quindi. No. E' un assassin. E' esatto. C'è una build da assassin. Un build da specialist. C'è il primo personaggio che può fare sia specialist che assassin. Perché ha un. Ha la possibilità di avere un controllo di linea e. O ingenti danni. Più che specialist. Quasi quasi support su CC. Perché specialist. Non fai danni su. Intendevo. C'è lo specialista alla fine ha quello. Quello utilizzo lì. Non fai. Non fai danni. Si. Hai un utilizzo di controllo. Esatto. Non fai danno. Uh. Pu 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 pu. Anche perché non hai. Non hai ancora pensato all'utilizzo della mina. Eh. Ah si. C'è la build con la mina ma. No. Nel senso che nella tua con. Si si. Nel boost damage la mina comunque fa danni. Con le tenaglie tu la mina la puoi usare per tirarlo sulle tenaglie. per aggruppare un gruppo di persone. Oppure. Una volta che la tenaglie gli metti la mina dietro lo fai esplodere. Lui viene. Sbalzato in avanti. Esatto. Viene sbalzato nella tua direzione lo puoi minare. Mi piace come personaggio Junkrat. Ha degli ottimi escape. Ha dell'ottimo danno. Sarà un personaggio molto giocato. Si. Probabilmente verrà nerfato. Ma come al solito. Speriamo che non succeda come al mio mitico e buonissimo Kalthusara. Va bene ragazzi. Questo era Junkrat su Irony Storm. Questa ragazza il suo nickname è. Pi romantica. Sara perché. Sara per lì più. Prisar. Prisar per gli amici. Prisar. Benissimo. Va bene ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Stavolta non me lo taglia. Invece si. Ciao. 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 Ciao.